Tu adesso pensi che ci cade qualcosa da fare? No, 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 continua a guardare il video, tanto non succedrà niente. Un altro giorno? Quella sera, ma cos'era successo? Non lo so, non lo so. Ma non è questi che ancora guardano il video, non cade niente, non cade niente. A che bel Marcello? Non toccarmelo. A che bel Marcello? Non toccarmelo. A che bel Marcello? Ancora lì? Non cade niente. Lascia veramente tanto.